Ciao, vuoi presentarti da sola? Ciao, sono Chiara, ho 35 anni e lavoro all'Unicaso di Mestrino. Come e quando hai deciso di entrare nel mondo della consulenza immobiliare? Allora, io ho iniziato a febbraio del 2012, quindi sono 11 anni che sono qui a Mestrino e non sapevo niente di case quando ho cominciato a fare questo lavoro. Quindi ero preoccupatissima di dire cose sbagliate o di non sapere assolutamente che cosa fare e insomma invece sono ancora qua dopo 11 anni. Qual è il tuo ruolo? Dunque, io ho cominciato 11 anni fa facendo la coordinatrice, sono poi passata a gestire prima l'affitto e poi la vendita, con soddisfazione, ma l'anno scorso consapevolmente sono ritornata agli esordi e quindi sono di nuovo nel ruolo di coordinatrice, quella che io amo chiamare la coordinatrice pro o 2.0. Tre aggettivi che ti definiscono? Equilibrata, razionale e simpatica. Come ti vedi nel futuro? Non lo so, è la prima cosa che mi verrebbe da dire. Lavorativamente parlando mi vedo sempre qui, se mi vogliono ancora i miei colleghi. Vedrò quello che mi riserva al futuro, cercando naturalmente di impegnarmi al massimo, sia lavorativamente parlando che nella sfera privata, per raggiungere nuovi obiettivi e traguardi importanti. Qual è il tuo obiettivo lavorativo più grande? Il mio obiettivo lavorativo più grande è essere persona, una figura completa al 100%, nel senso di essere in grado di avere quasi le risposte a tutto, in poche parole, e riuscire veramente a gestire quello che appartiene al mio ruolo in modo completo. Vuoi dire qualcosa che ti sta ascoltando? Guardate i nostri video, seguitici sui nostri social, su Facebook, su Instagram, a breve, a su YouTube, ci stiamo impegnando per diventare forti anche su LinkedIn. Seguiteci perché siamo simpatici, siamo divertenti, siamo professionali, vi diamo tante informazioni, vi facciamo vedere tante belle case, sia in vendita che in affitto, quindi seguiteci. Un desiderio? L'impatto? Mi viene da dire avere tempo, tempo per fare cose, nel senso di, al di là di quello che può essere il lavoro e l'avete di tutti i giorni, insomma di riuscire ad incastrare quello che bisogna fare, avere tempo, che ne so, per riuscire a fare una passeggiata, a godersi una bella giornata, a godersi la vita, a fare un qualcosa in più, gestire bene il tempo in modo da poter vivere serenamente. Consiglieresti questo gruppo di lavoro a qualcuno che vuole intraprendere questa carriera? Sì, perché sfido chiunque a trovare un gruppo di lavoro come il nostro, un ambiente dove è vero che stiamo qui tanto tempo, perché passiamo, io dico sempre che passiamo più tempo qui che non a casa, e quindi sfido chiunque a trovare un posto di lavoro dove si stia bene e inoltre perché c'è la possibilità veramente di studiare assieme il percorso da intraprendere e il proprio ruolo, definire bene il proprio ruolo, il proprio obiettivo per costruirlo su se stessi. Video marketing immobiliare, che cos'è? Video marketing immobiliare è innovazione, è il percorso che abbiamo intrapreso da tre anni a questa parte, ormai è iniziato in lockdown con il covid ed è un percorso che in un certo senso serve per farci conoscere. Dall'altra parte invece è veramente un grande studio ed è un grande lavoro che stiamo facendo per valorizzare al meglio gli immobili, le case che abbiamo in gestione, siano essi in vendita che in affitto, per valorizzare al meglio il nostro lavoro, per dare anche, volendo, un servizio in più al cliente, per vendere casa prima e meglio. Naturalmente, le mie colleghe ormai mi odiano perché ogni tre per due chiedo loro di fare un video, una registrazione o qualcosa. Fai un saluto! Ciao a tutti, vi aspettiamo in unicasamestrino, ormai sapete dove siamo e quindi non vi resta che venire a trovarci.